ATS della Montagna con il supporto delle associazioni del territorio ripropone anche quest'anno Ottobre in Rosa, la campagna informativa che ha lo scopo di sensibilizzare la comunità sul valore della prevenzione per combattere le malattie. Di scena una staffetta che attraverserà la Valtellina e coinvolgerà le valli laterali nel rispetto delle misure anti-covid, portando avanti il prezioso messaggio sull'importanza degli screening e di un corretto stile di vita. Una manifestazione di questo tipo, una camminata che attraversa tutto il nostro territorio della TS della Montagna, non sarebbe stata possibile senza la partecipazione delle associazioni, che io non finirò mai di ringraziare per il lavoro straordinario che fanno sul territorio e che ci affiancano sempre, soprattutto in tante iniziative, ma in modo particolare nell'Ottobre in Rosa. È una staffetta di cammino che va da martedì 13 a sabato 17, quattro persone, siamo intorno ai 120 chilometri sul tracciato Dongo-Aprica, mentre poi ci sono delle periferiche. La prima parte dalla Val Chiavenna e scende fino a Mantello, poi abbiamo la Valgerola che arriverà fino a Morbegno, Caspoggio che arriva fino a Sondrio e poi avremo Mazzo di Valtellina che arriva a Tirano e salgono fino all'Aprica, dove si concluderà sabato. Quando uno dona il sangue fa prevenzione, quando uno si candida per poter donare le cellule che producono il sangue col midollo osseo, anche questo fa prevenzione, oltre che solidarietà. Con la donazione degli organi, diciamo che rendiamo quello che abbiamo avuto gratis a qualcuno che adesso potrebbe passare il testimone, una staffetta, in questo caso, di qualcosa che è vita. A Sondrio ci sarà anche un evento simbolico molto importante, al Parco Adamallero. Sì, abbiamo pensato di mettere a dimora una pianta, la pianta di per sé ha un segno di vitalità, di ricrescita, ogni anno si ripresenta con le sue foglie e i suoi fiori e abbiamo scelto una pianta che proprio fiorisse in ottobre e con dei fiori rosa. A giugno sono ripresi gli screening per il tumore alla mammella, quali sono i numeri ad oggi? Allora, per quanto riguarda lo screening mammografico, siamo ripartiti alla fine, al 29 di giugno e fino al 30 di settembre abbiamo mandato 5.000 inviti con un'adesione del 58,2%, 2.900 persone che hanno già aderito. Collegate a distanza Fondazione Albosaggia, Cammiccando e Amazzoni, coinvolte nella staffetta, Lubilantes, Donne in Rosa, Ecomuseo della Valgerola, Comuni della Valmalenco, i Dolcissimi e Nord Walking Valtellina. Rinnovato il sostegno alla campagna informativa dei privati che per l'intero mese confezioneranno ad occhi i propri prodotti, mentre monumenti, ponti ed edifici pubblici si illumineranno di rosa. Grazie a tutti.